Ben ritrovati, nuova edizione del TV giornale di Telestense, come sempre tante le notizie di cui ci occuperemo, vi mostreremo le immagini dell'inaugurazione della 29esima edizione del Salone Internazionale del Restauro a Ferrara Expo e parleremo anche di politiche per l'abitare con la cooperazione a confronto insieme ai candidati sindaci di Ferrara. Tante notizie poi legate all'attualità e alla politica e ci occuperemo anche di eventi legati al prossimo weekend, in particolare quello di CNA che ci invita tutti a ceramica in festa per il 18 e 19 di maggio. Cominciamo subito dalla politica perché Fabio Anselmo replica alle accuse di Nicola Lodi e del senatore Alberto Balboni in merito alla presenza nella sua lista di un candidato, Diego Marescotti, condannato per bancarotta fraudolenta. Anselmo dice che Balboni fa riferimento al patteggiamento non condanna avvenuto una decina di anni fa quando il candidato, poco più che ventenne, dovette rispondere per un'auto del valore di 5 mila euro a lui intestata, mentre faceva parte di una società fallita. Un episodio che Anselmo ritiene di importanza minore rispetto alla presenza della parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli, condannata a un anno e sei mesi in via definitiva per peculato contro la pubblica amministrazione. Anselmo se la prende anche con Alan Fabri in seguito ai 50 mila euro raccolti tra la cittadinanza per il covid consegnati all'Ausla solo in questi giorni dopo quattro anni. Ma il senatore Balboni controreplica via social ritenendo il caso dell'onorevole Montaruli fuori luogo in quanto non ha nulla a che fare con Ferrara e si è subito dimessa da sottosegretario. Per Balboni si tratta di una doppia morale della sinistra in cui Anselmo si arrampica sugli specchi. Adesso invece parliamo di emergenza casa, problematica che da tempo insiste anche nel ferrarese. Se ne è parlato nella mattinata di mercoledì in via Medini a Ferrara nella sede della cooperativa Castello che ha organizzato un incontro con i quattro candidati sindaci di Ferrara a cui erano tutti presenti a parte Alan Fabri. Quali le proposte della cooperazione per le politiche per l'abitare le sentiamo dunque in questo servizio. Ma tirata importante è quella cooperativa Il Castello, un'occasione per parlare del futuro della cooperazione ma anche dell'abitare soprattutto in un periodo storico non facile come quello che stiamo vivendo, un'occasione anche per confrontarsi con i candidati sindaci. Sì, è troppo tempo che il nostro paese non gode di un vero e proprio piano casa che possa almeno tentare di dare delle risposte in continuo a quella che è l'esigenza. Il quadro in questi ultimi cinque anni si è completamente modificato e noi siamo fortemente preoccupati che questa cosa qui possa anche ostacolare questioni legate allo sviluppo della nostra città. Prima si diceva se non è il lavoro non arriva la casa, oggi se non è la casa non è il lavoro e queste sono le cose che stiamo palpando tutti i giorni nella nostra condizione di gestione di una cooperativa sì importante ma purtroppo ancora non sufficiente alla risposta del bisogno. Abbiamo la necessità appunto confrontandoci oggi in questa bella cosa che speravamo accolta anche dalle condizioni climatiche ma non è stato così, un confronto con i candidati che possano almeno rendersi conto in maniera un pochino più diffusa di quello che è il quadro della situazione. Poi da parte nostra la cooperazione continuerà a fare la sua parte ma non sarà sufficiente se la politica davvero non si prende carico di queste cose. Una mattinata importante qui al barco e anche poi a Modena nel pomeriggio. Per parlare di casa, da tanto tempo c'è un'emergenza abitativa. Quali sono le proposte della cooperazione? La cooperazione ha da anni affrontato il tema perché abbiamo cooperative storiche presenti sia a Modena che a Ferrara con l'obiettivo di dare abitazione per si calmirati, confortevoli per tutti. Questo crediamo che sia attuale anche oggi sia perché questo bisogno è vivo e molto presente anche perché tante imprese circolano il personale e fanno fatica a trovarlo perché il personale fa fatica a trovare abitazione. Un'occasione è quella delle elezioni per parlare di casa, oggi qui avete alcuni candidati sindaco, insomma cosa proporrete, cosa li chiederete? Esatto, assolutamente sì, lo vogliamo fare in modo molto trasparente, quindi noi ci confrontiamo con tutti i candidati sindaci sia a Ferrara che a Modena. Raccontiamo ciò che noi percepiamo come problematicità ma cerchiamo anche di dare delle risposte a questo e le nostre cooperative in primis sono pronte a fare anche investimenti in tal senso all'interno di uno più generale quadro politico-amministrativo che vedrà la protagonista i prossimi sindaci del 2024. Sempre in mattinata taglio del nastro per la 29esima edizione del Salone Internazionale del Restauro. Il prestigioso appuntamento è presente in questi giorni presso Ferrara Expo ma vediamo i dettagli nel servizio. Taglio del nastro per la 29esima edizione del Salone Internazionale del Restauro presso Ferrara Expo. Un evento importante, riferimento per i beni culturali e ambientali. Presente all'inaugurazione, introdotta dalla Presidente della Fiera Andrea Moretti, diversi esponenti del mondo civile e religioso quali Monsignor Giancarlo Perego, arcivescovo di Ferrara Comacchio, Monsignor Jean-Marie Gervais, prefetto coadutore del capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, Massimo Marchesiello, prefetto di Ferrara, Paolo Calvano, assessore al bilancio della Regione Emilia Romagna, Matteo Fornesini, assessore al turismo del Comune di Ferrara ed esponenti dell'Università di Asso Restauro e dell'Ufficio Beni di Consumo e ICE Agenzia. Numerose le presenze sin dalle prime ore della giornata per un evento di notevole importanza, come sottolineato dal Presidente di Ferrara Expo. L'importanza di questo evento deriva dal fatto che qua riusciamo a radunare le migliori competenze, le migliori esperienze, le migliori professionalità e le aziende che sono appunto le protagoniste di questo straordinario mondo del restauro. Le aziende italiane fanno scuola nel mondo, tant'è che abbiamo anche i delegati esteri, ospiti da noi per tre giorni, che vengono a conoscere le aziende, le loro modalità operative e soprattutto il loro sapere. Il Salone del Restauro è un momento di grande confronto del lavoro che viene fatto durante tutto l'anno da questi professionisti ed è un momento di scambio di idee, che nel tempo ha sempre visto aumentare la propria qualità, esiste da 29 anni, questa è appunto la 29esima edizione, ha visto aumentare la propria qualità fino a diventare veramente un punto di riferimento a livello internazionale. Ne esistono due al mondo di eventi come questo, uno a Ferrara, da sempre, e uno ad Istanbul, che si sta svolgendo proprio in questi giorni e tra poco avremo anche un collegamento appunto con il Salone di Istanbul. Per noi quindi è motivo di grande orgoglio per la città di Ferrara poter diventare protagonista di un settore che ha un'importanza fondamentale, perché tutela i nostri beni, il nostro patrimonio architettonico e culturale che fa grande, grandissima la nostra nazione. E adesso parliamo della riscoperta di culture naturali e rinnovabili come ad esempio il ricino, i cui semi vengono trasformati in biodiesel. E' uno dei progetti mostrati a Idice, nel Bolognese, durante le due giornate in campo organizzate da SIS, società italiana Sementi. Un progetto avente come obiettivo quello di sostituire i combustibili fossili derivanti dal petrolio e che vede SIS collaborare con l'Eni. Vediamo. Due giornate con i campi praticamente in vetrina per far vedere quali sono le novità, ma per spiegare anche la storia di SIS, cosa è stata, che cos'è, che cosa sarà. Chi c'è qua oggi? Qui oggi ci sono i nostri partner, tutti quelli che sono nostri collaboratori, nostri clienti, tutti quelli che lavorano con noi. Questo è un grande laboratorio a campo aperto in cui noi facciamo vedere quelle che sono le nostre varietà storiche, quelle che sono il nostro presente, ma anche quello che è il nostro futuro. Se dovessimo guardare là in fondo abbiamo gli incroci da F1 fino a F8, quindi dalla prima generazione fino al materiale quasi pronto per essere registrato e quindi del materiale che metteremo sul mercato tra 7, 8, 10 anni. Nel prossimo futuro, anzi, abbiamo un progetto sui biocarburanti. Oggi qui potete vedere seminato del ricino, della cartamo, della camelina, della brassica carinata, ma anche colza, ma anche girasole, che sono tutte culture a uso energetico che possono essere utilizzate per fare i biocarburanti, che sono una branca del nostro lavoro che è molto interessante. In un prossimo futuro non si potranno più utilizzare combustibili fossili e quindi noi stiamo proponendo un'alternativa utilizzando culture naturali e rinnovabili che possono andare a sopperire a questa carenza del futuro. Il ricino è una pianta di origine tropicale e subtropicale che ha la caratteristica di avere dei semi con un alto contenuto in olio, quindi questo la rende una pianta molto adatta per le produzioni di biocarburanti nel contesto della decarbonizzazione del settore trasporti, quindi ha su di sé un'attenzione dal punto di vista produttivo sempre crescente. In SIS stiamo lavorando per individuare dei genotipi che possano essere adatti a diversi ambienti dove questa verrà coltivata sempre di più da oggi in avanti. La cultura del cartamo, che vedete alle mie spalle, è una pianta a ciclo annuale, è un'altra oleaginosa minore su cui stiamo puntando molto, sia come ricerca genetica che come miglioramento varietale. E' una pianta molto interessante anche dal punto di vista della rusticità, in quanto a differenza del ricino ha produzioni molto buone anche in assenza di irrigazione. Nelle prove che abbiamo fatto è stata molto competitiva anche senza apporto idrico e quindi anche per le aree di produzione, come poi ha detto il collega, che saranno probabilmente anche nell'Africa subsahariana, è un elemento di valore di questa cultura. Come produzioni potenziali si può arrivare fino alle 3 tonnellate a ettaro, quindi abbiamo delle buone aspettative su questa produzione. Questo progetto ha come partner importante una grande società che è Eni. Eni ha questo progetto di biocarburanti e noi abbiamo questa collaborazione con loro per mettere a punto i biocarburanti per il futuro. Adesso invece parliamo di campagna amica news in onda su tele stense dopo il Tg del mercoledì, con un focus sugli infortuni sul lavoro e poi spazio al progetto di col di reti nelle scuole e al compleanno del mercato coperto di Via Montebello. Ma l'ortofrutta ha registrato un dato storico e non si tratta purtroppo di una bella notizia per l'agricoltura italiana. Sentiamo il perché in questo estratto. Ultimamente abbiamo partecipato con assiduità sia a Cibus a Parma sia a Macfrutt a Rimini dove chiaramente il discorso delle nostre imprese è stato assolutamente tenuto in considerazione con anche delle analisi che purtroppo non è che ci fanno così piacere e ci danno così tanta soddisfazione. Intanto dobbiamo dire che dopo oltre 30 anni il valore dell'import ha superato quello dell'export. Sono 6,1 miliardi il valore dell'export e purtroppo sono 6,4 miliardi il valore dell'import. E quindi questo determina sicuramente a livello anche reddituale delle nostre imprese una situazione di attenzione congiunturale. Ne è un esempio il caso di un agricoltore ferrarese. Ieri ho ricevuto una telefonata da un nostro produttore che produce cipolle e che chiaramente cipolle è una primizia sia sotto l'aspetto salutistico che quello chiaramente a chilometro zero anche proprio per la qualità del prodotto e nel colloquio del commerciante. Quindi per collocare il proprio prodotto purtroppo il ragionamento è che insomma siamo subordinati al fatto che l'acquisizione del nostro prodotto deve essere conseguente allo smaltimento di quelle che abbiamo importato e magari le abbiamo importate dall'Olanda. Non so se sono spacciate come olandesi o come italiane effettivamente e quindi però che creano una concorrenza assolutamente sleale e di disagio. Tant'è vero che non siamo andati neanche entrati troppo nella trattativa perché comunque primo non c'è spazio e secondo luogo qualora ci fosse spazio sicuramente i centesimi riconosciuti al chilo sono inferiori ai costi di produzione. Quindi capite che sicuramente sono situazioni queste che vanno immediatamente come sempre affrontate. Ma come devono essere affrontate secondo Coldiretti? Ci sono delle proposte chiaramente in merito. Una di quelle è riprendere a ragionare sull'ultima parte della trasformazione, il cosiddetto codice doganale dove non è possibile che una semplice lavorazione nell'ultimo stadio prima della vendita possa trasformare un prodotto estero da un prodotto italiano dove effettivamente poi crea queste spiacevoli situazioni e queste distorsioni. Chiaramente quelle cipolle del nostro agricoltore speriamo vengano collocate il prima possibile e vengano collocate assolutamente ad un prezzo ragionevole. Abbiamo bisogno della sensibilità dei cittadini e dei consumatori perché questa purtroppo è una piaga che tutti i giorni investe il nostro patrimonio agroalimentare. E prima pagina di Cultura ed Eventi parlando della presentazione alla Biblioteca Reostea di Senza Paura il nuovo libro di Daglia Bighinati dove protagoniste sono 26 donne che hanno avuto rilevanza nell'ultimo secolo intervistate dall'autrice. Ad introdurre il pomeriggio è stato l'editore Massimo Scrignoli insieme ad Anna Quarzi presidente dell'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara. Ne vediamo un estratto. È un libro che racconta la vita, il percorso, la presenza soprattutto. E così direi la presenza perché alcune non sono più in vita ma quasi tutti questi 26 ritratti di figure femminili geniali, libere e coraggiose come recita il sottotitolo che in realtà è analogo al titolo, è un titolo anche questo. Sono 26 ritratti di figure molto importanti, divise in cinque sezioni perché sono state raggruppate da Daglia sulla base della loro attività, del loro percorso culturale e soprattutto umano. Vorrei soltanto ribadire fin dall'inizio che questo non è un libro di stampo giornalistico, insisto su questo, anche se ha un taglio giornalistico perché nasce da interviste che negli anni Daglia ha fatto e ha raccontato e ha pubblicato e ha divulgato anche in tv. Ma le racconta in maniera, lo dico con l'accessione più nobile del termine, in maniera romanzata, cioè per romanzata intendo letteraria. Fa un percorso che è una sorta di viaggio dentro la storia delle donne, dentro le donne e attraverso le loro parole sono tutte donne importanti, donne importanti per il costume, per lo spettacolo, per la letteratura, per la politica. Sono tutte donne, sono tutti ritratti, ritratto forse non va bene, comunque storie importanti di donne che sanno dire, che sanno dirci delle cose veramente fondamentali, fondamentali per chi vuole conoscere, non solo proprio la conoscenza, non solo il sapere se vogliamo io, scusate la parola storia mi viene, ma mi viene normale, perché sulla storia stessa delle donne. Sono donne alcune, sì, poche però tra l'altro scomparse, ma sono donne viventi e alcune chiaramente io stessa le ho conosciute, ne ho anche condiviso qualche percorso e me le sono ritrovate, me le sono ritrovate in questa sorta che è proprio un viaggio. Questo viaggio, lungo il novecento, soprattutto lungo la seconda metà del novecento e i primi decenni di questo terzo millennio, non sono soltanto un percorso che coglie certe personalità, certe figure femminili che hanno fatto determinate cose e in parte le ha accennato Anna, ma sono anche delle incursioni nella storia dell'epoca. Incursioni che naturalmente partono da un angolo visuale o da un punto, come dire, di ingresso che non è sui libri ed è appunto il varco di una donna. E quando Anna adesso ha detto una cosa molto bella, e cioè che vuole leggere insieme alle sue studentesse o anche laureate che frequentano l'istituto e vuole leggere insieme, beh, siccome avete stolineato tanto che io sono stata per tanti anni un'insegnante, devo dire che io ho molto pensato alla gente di scuola scrivendo questo libro. E adesso parliamo invece di un altro appuntamento di tutt'altro genere, nel weekend appunto con Ceramica in Festa, evento organizzato da CNA per celebrare la tradizione ferrarese della ceramica. Siamo stati in conferenza, sentiamo dunque le interviste. Accadranno tante cose, noi abbiamo coinvolto tutti i nostri ceramisti nell'organizzare dei laboratori che vogliono rendere partecipi tutta la comunità nel lavorare l'argilla, creare dei manufatti, cuocerli utilizzando le diverse anche tecniche. Ci saranno anche delle dimostrazioni, naturalmente il tornio così come il graffito estense, dove noi abbiamo una forte tradizione ferrarese e che vogliamo continuare ad alimentare. Ci sarà un forno racco in piazza che lavorerà, cuocerà i nostri, quelli che sono appunto i lavori che sono stati creati e quello lì è uno dei momenti più suggestivi, più scenografici perché una volta che verranno tirati fuori gli oggetti che sono stati cotti dal forno prenderanno vita i colori e i colori racco sono assolutamente stupefacenti. Siamo alla terza edizione, è una manifestazione che permette di mettere in contatto le imprese con la cittadinanza, in particolar modo speriamo i giovani, grazie anche alla collaborazione che abbiamo attivato con l'Istituto Dosso-Dossi. È un prototipo di un'iniziativa che nasce tre anni fa e che ci ha dato ispirazione per crearne tante altre anche su altri settori come abbiamo visto l'anno scorso quando in settembre abbiamo fatto la prima edizione del Festival delle Imprese e delle Idee. Questo è un po' il nostro leitmotiv delle nostre iniziative degli ultimi tempi perché l'obiettivo è quello di far tornare in contatto i giovani in particolar modo con le piccole imprese, in particolar modo le piccole imprese dell'artigianato per fare scoprire un po' i valori, la cultura, le tradizioni che ci sono dietro queste imprese e la creatività che può scaturire da queste imprese e che può dare sicuramente anche un grande apporto al sistema economico della nostra provincia in particolare, ma un po' di tutto il nostro territorio. Oltre a essere ovviamente una manifestazione legata all'artigianato, io invece calcherei la mano sottolineare il fatto che è anche una manifestazione culturale perché il non fermarsi solo a guardare, cioè non avere un atteggiamento passivo verso gli oggetti, verso l'arte, ma attivo è un aspetto culturale. Diceva prima il direttore di CNA l'intelligenza delle mani, è una frase molto bella, mi piace, è con l'intelligenza delle mani. Vediamo i nostri concittadini ferraresi mettersi all'opera guidati dai vari ceramisti ferraresi e come è stato uno scorso, è stato un successo incredibile, anche quest'anno vediamo dalle iscrizioni che praticamente sono già esaurite, che c'è molta voglia di fare. Il progetto è stato fatto in relazione al PCTO che è l'ex alternanza scuola lavoro, abbiamo individuato una classe quarta, la quarta di indirizzo figurativo e con i ragazzi ci siamo approcciati alla tecnica del graffito ferrarese, questa antica tradizione anche se è stata rivisitata in chiave diciamo contemporanea, moderna, anche riferimento all'età dei ragazzi. Abbiamo come artefatto proposto e realizzato il vaso, il vaso perché come dicevo è un oggetto che troviamo fin dall'attività, fino ai giorni nostri, lo usiamo abitualmente nelle nostre case. Il vaso poi ci aiuta anche a riportare sempre nei nostri habitat, nei nostri ambienti qualcosa di naturale, qualcosa di relativo al bello. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che per altre notizie potete come sempre consultare telesense.it e i nostri canali social. Grazie dunque per averci seguito e come sempre l'appuntamento rinnovato alla prossima edizione. Grazie a tutti.